Nelle piazze italiane abbiamo organizzato dei flash mob per chiedere a tutti di concedersi l'opportunità di ascoltarsi ed essere ascoltati, darsi quindi il tempo per fare delle scelte. Simulando la progressiva accelerazione del bambino cardiaco di una persona che passa dalla presa ad uno stato di abitazione Grazie a tutti Grazie a tutti I pensieri suicidi sono parti delle crisi molto profonde e se si presentano è fondamentale non sottovalutarli né fingere di non averli Datti il tempo, datti il tempo di cercare qualcuno che ti ascolti, che sia un familiare, che sia un amico, un conoscente oppure un volontario di telefono amico Italia Datti il tempo!